Il figlio di Tortelli Chiamai un ragazzino che nella strada del paese stava costruendo un pupazzo di neve, prima che diventasse nera. Gli diedi un euro perché andasse a chiamare mia madre. Possibile che non capisci che sei quella che sei, disse mia madre appena mi vide, poi mi baciò e abbracciò. Tuo nonno e tuo padre hanno fatto gli schiavi nella fabbrica del signor Tortelli e tu, che hai avuto la fortuna di diventare un insegnante in città, appena puoi torni in paese perché sei innamorata del figlio di Tortelli. Forse mia madre era saggia della sua lunga vita. Che migliore di te non confonderà certo il suo sangue col tuo, disse mia madre duramente. Al massimo ti viene a scopare qualche volta in città. Sì, mamma, ma non riesco a non desiderare di fare l'amore con il figlio di Tortelli, perché devi ancora abbandonare quegli impulsi che ancora chiedono comprensione di sé mia madre. D'altronde anche il non voler desiderare in realtà è un desiderio. Che vuoi dire? Che ti devi saturare del figlio di Tortelli per non desiderarlo più. Ma se non lo desiderassi più, non parteciperesti alla tua evoluzione che adesso ha solo bisogno di farsi usare dal figlio di Tortelli. Grazie. Grazie a tutti.